Quello ispirato alla prevenzione, banale ma vero, è un metodo da adottarsi sempre a contrasto di ogni fatto, evento, comportamento patologicamente avverso. Non si sottrae a questa considerazione la deriva della ludopatia. Conoscere il problema preventivamente può consentire di evitarlo, specie, quando ad essere esposte sono fasce di popolazione in giovane età. Mafia e gioco, il titolo della manifestazione di ieri a Termoli, presso l'Istituto Majorana, ha presentato il progetto Giocare senza rischi. Dobbiamo far comprendere la differenza tra gioco per intrattenimento e dipendenza, iniziando proprio dai giovani. Così Fabrizio Premuti, presidente nazionale dell'Associazione Consumer Italia. Quando parliamo di ludopatia dobbiamo stare ben attenti a distinguere ciò che è intrattenimento e il gioco da ciò che è dipendenza. Questo lo dobbiamo far capire soprattutto alle classi più giovani perché proprio dalle classi più giovani arrivano segnali forti di dipendenze e i telefonini sono il primo esempio che noi dobbiamo mettere sempre sul piatto quando parliamo di dipendenze. Passare da quel tipo di dipendenza ad altre dipendenze purtroppo è estremamente semplice. Dobbiamo assolutamente far comprendere a tutti che cosa significa essere dipendenti. Gli adolescenti esposti soprattutto al rischio ludopatia legato al gioco online, rimarca il presidente del Consorzio Lavoro e Ambiente, Tito Livio Mongelli. Comincia a diventare col gioco online anche un problema per gli adolescenti. Non dimentichiamo poi che oltre all'udopatia legata al gioco d'azzardo con soldi c'è la game addiction che colpisce prevalentemente gli adolescenti e i giovani in cui si entra in un mondo virtuale che può essere quello del videogioco oppure possono essere anche altri sistemi di utilizzo del tempo online in cui piano piano ci si allontana dalla realtà, dalle amicizie vere, da quelle che incontri tutti i giorni. Tante volte si riduce anche fortemente l'impegno scolastico per entrare in un mondo virtuale da cui poi potrebbe essere molto difficile uscire. A Termoli, pro capite, 1700 euro l'anno vengono, è proprio il caso di dire, consumati per il gioco. È l'allarmante dato riportato dalla presidente della Casa dei Diritti, Laura Venitelli. Se pensiamo che nella sola città di Termoli si giocano ogni anno, pro capite, 1700 euro e oltre 55 milioni di euro, capiamo quanto importante è oggi contrastare questa malattia, malattia vera e propria perché così è stata riconosciuta nel 2012. Stiamo facendo appunto un'attività di informazione e a supporto poi anche di questa iniziativa abbiamo questo numero verde telefonico con ragazzi del servizio civile che rispondono al telefono appunto a Teut Italia con il supporto di psicologi anche con una rete di professionisti per la materia del sovraindebitamento. E per richiedere aiuto e sostegno il numero a cui si faceva riferimento è l'800 601 501.